Ultima cavolata del giorno che l'Inter vuole fare, sta cercando di vendere Shakiri No ragazzi, non sono normali, i dirigenti dell'Inter non sono normali Tu stai cercando Salah, Shakiri è anche 20.000 volte più forte di Salah Tu stai cercando Perisic, Shakiri forse quanto Perisic, lo stesso ruolo, più fiuto del gol Senso tecnico-tattico superiore, oh che Shakiri ha giocato nel Bayern Monaco Di certo non ha giocato nella Dinamo Zagabria come Kovacic Quindi a sto punto preferisco proprio vendere Kovacic ragazzi Cioè voi fatemi sapere nei commenti che ne pensate L'ultima idiozia di mercato dell'Inter che vuole vendere Shakiri Cioè sta gente non è normale, lo prendi a 18 milioni al Bayern Monaco Poi che fai? Sì, lo rivendi allo Stock City Allo Stock City, poi si sa, lo Stock City è un top club europeo Ha vinto 10 Champions, 15 campionati inglesi, 10 Coppe d'Inghilterra, 15 FA Cup Oh ma che stiamo scherzando? Cioè lui ha rifiutato Per ora l'Inter lo vuole sbolognare al Paris Saint Germain Per l'Avezzi Da quanto è che non sento che l'Avezzi segna? Da Chelsea, Paris Saint Germain Paris Saint Germain, Chelsea dell'anno scorso che segnò con quell'errore Vabbè chi se lo ricorda se lo ricorda Ma il punto è questo Che se l'Inter vuole valorizzare i giovani Lo deve fare anche con Shakiri Che non li dimostra ma ha anche lui 23-24 anni A sto punto tra Kovacic e Shakiri chiediamoci chi ha dato di più Kovacic ci ha dato pochissimo in tre anni Shakiri le uniche due partite che mi ricordo che ha giocato bene Sono forse le uniche due o tre che ha giocato Sono quelle con la Sampdoria, ha segnato Quella in campionato con l'Atalanta, ha segnato Quella col Celtic, ha segnato Oh ma che volete di più? Cioè se lo tieni fuori per scelta tecnica E te lo compri a 18 e lo rivendi a 16 Allora sei proprio un pirla no? Cioè ragazzi io voglio sapere cosa ne pensate voi Perché questa mi sembra un'idiozia di mercato Peggio dello scambio Romagnoli e Sharawi che vuole fare il Milan Che probabilmente si concretizzerà anche con un conguaglio Ma ragazzi questa gente non è normale Hashtag save Shakiri nei commenti Noi ci rivediamo al prossimo video Ho avuto dei problemi con il video delle sponsorizzazioni Ve lo carico domani Allora ragazzi Salvate Shakiri Salvate Shakiri